E' una scacciacane di libera vendita, tipo pistola automatica, quella che un gruppo di bambini di età compresa tra i 4 e i 9 anni hanno ritrovato sabato mattina in un cannetto nella zona nuova di Bellocchi in via 27esima strada. Un gruppetto di bambini intorno alle 9.30 sta giocando negli spazi verdi attorno alle abitazioni, nelle vicinanze di un ponte di legno, quando nota una cassettina nera tipo valigetta e al suo interno una pistola. I genitori e gli altri adulti del quartiere avvertono immediatamente i carabinieri di Fanno del ritrovamento che arrivano con una pattuglia e si accorgono ben presto che la pistola con due bossoli all'interno è un'inocua scacciacani acquistabile liberamente, fortemente deteriorata dagli agenti atmosferici e ampiamente ricoperta di ruggine che la rende ormai inservibile, segno che da diverso tempo si trova all'aperto e forse nello stesso luogo dove l'hanno trovata i bambini. Il ritrovamento comunque ha destato grande apprensione e preoccupazione negli abitanti del luogo che, non essendo esperti, hanno pensato subito al peggio e alla pericolosità della situazione, caso mai l'arma fosse stata vera e da venirne in possesso fossero state mani inesperte come quelle appunto dei bambini. Ora la scacciacani è stata sequestrata ed anche se i carabinieri di Fanno riguarda le ipotesi sul ritrovamento sono propensi a credere più ad un modo da parte di qualcuno di disfarsi dell'oggetto, stanno comunque procedendo ad accertamenti per capire la provenienza della finta arma e se la stessa sia stata utilizzata in qualche atto criminoso. Grazie! 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 Grazie!